Le partnership con le associazioni con i soggetti della società civile dal nostro punto di vista sono finalizzate a costruire assieme progetti di innovazione sociale, sperimentazioni che possano poi diventare buone pratiche da diffondere nel territorio con il coinvolgimento delle attività e dei soggetti che sono desiderosi di modificare, di essere attori del cambiamento.